Tutto pronto? Partiti! Un po' lento in avvio Fassati, dal gruppo invece si fanno notare Ivo Presidente, che è uno dei più veloci, insieme a Diagon Drive e Borghese Gallery, all'interno è veloce anche Captain Sensible, che si porta subito a stretto contatto con i privi, a largo anche Beggy che interviene, poi lo stesso Hollow Bastion che cerca la posizione. Diagon Drive in leggerissima evidenza di fronte a Beggy che avanza a largo in giubba gialla-rossa, all'interno Ivo Presidente, tra i cavalli col parocchi rosso a scacchi, galoppe invece Hollow Bastion, a largo di tutti i Fassati, seconda linea con le maniche al cablo scuri, Borghese Gallery, all'interno in bianco-rosso-verde Captain Sensible, su Mitzvah, più dietro Max Olimpia che è appunto staccata insieme ad Irish Aplos. Nel frattempo Diagon Drive sveltisce in maniera decisa la cadenza, Ivo Presidente e Captain Sensible sono quelli che rimangono a contatto, poi anche Mitzvah che si sta avvicinando a buone folate, gli altri più dietro, all'ultimo farlo, Diagon Drive in fuga da Mitzvah che è sempre l'unica possibile minaccia rispetto a Diagon Drive che ancora salga in avanti nell'ultimo tratto comodamente. Diagon Drive concede il bis su Mitzvah, Ivo Presidente e il resto della compagnia. Per Entorio, Diagon Drive, Luca Magnezzi sicuro verso la meta, per il signor Asta ai colori, il signor Trappolini al treno.